Dall'Iston fino alla prefettura in Corteo erano circa 300 gli attivisti scesi in piazza in difesa della legge 194 al grido di 194 volte libere di scegliere. In piazza per difendere la 194? Sì certo perché ce n'è ancora bisogno, anzi noi chiediamo molto più di 194, il problema è che ancora oggi ci sono delle persone che vorrebbero togliere i diritti alle donne. In piazza per dire 194 volte libere di scegliere? Anche molto più di 194 perché siamo qui proprio per manifestare per il nostro diritto ad autodeterminarci, a scegliere liberamente sui nostri corpi. Un appuntamento preceduto in mattinata dal presidio promosso dal comitato giù le mani dalla 194, ingente lo schieramento di forze dell'ordine a tutela del diritto dei cittadini di vivere il centro storico il sabato pomeriggio con agenti di polizia, carabinieri, guardie di finanza, polizia locale pronti a intervenire in caso di contatto tra manifestazioni di segno opposto in base alle prescrizioni del questore di Padova che aveva vietato qualsiasi forma di corteo imponendo presidi di tipo statico. In piazza del Santo infatti quasi in contemporanea si sono dati appuntamento una cinquantina di militanti contro l'aborto aderenti al movimento no194.org. Noi vogliamo rivendicare il diritto di nascita delle donne e degli uomini che è violato dalla legge 194, ricordo che da quando è entrata in vigore, cioè dal 22 maggio del 1978, da quasi 45 anni, sono stati soppressi 6 milioni e mezzo di esseri umani. Anche in Prato della Valle manifestazioni in favore dell'Agenda 2030 dei Venetono Green Pass.